... Fisci Al-Mai! Che cosa indico il teatro! Voi! Volevo dire all'arbitro, vai! Fischiala! Chi se non esco? Subito Al-Freyli! Va bene, va bene. Dove dintiate? Vai vai vai! Porta, Porta, guarda Al-Freyli! Guarda Al-Freyli, guarda Al-Freyli! Tira al M... bravo Aventi ma non è parato il lo casillo tra sull'altra bella si bravo tu mi sei bravissimo Aventi dai la mano bravo non togliamano mai questo palco a fine è stato 1-0 quello Carmine usce buona Carmine è buona ma miei non miei tu è normale ma miei al finale che c'è stato calma mettilo va bene va bene andrei puoi entrare in campo calma calma la palletta la palletta faccio un seguito la palletta vai giù però time out tempo non ho capito il motino perchè non vuoi contribuire con la squadra ma fai dogs buona buona non c'è il 2 lo faccio il 2 lo faccio il 2 lo faccio il 2 lo faccio il 2 torniamo vai 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 non dico vai non dico vai è finita no è finita è vero è vero bravo non c'è 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 ma come mai entra la marca segnano esce la marca subiscono non c'è non c'è non c'è ma non c'è oh fa il gol bravo è vero che vuoi ma c'è oh non c'è non c'è non c'è calma 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 i film attivi comici non vanno in bordo eccezionato ma c'è ma c'è vai dai dai questo passaggio era perfetto perca di alicia eeeh grazie 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 bravo dai 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 aspetta ce l'hai qua sfondalo forca puttana un'altra cosa ma l'albio ti volete da una dai 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 ecco qua metri il suolo metri il suolo dai 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 con tira dai 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 ma sono finito i 30